Adesso non so dov'è che si deve prendere la Moonstone, forse. Allora, la vera domanda, io ho preso spaccarci da qui? Sì. Allora, però non so dov'è. Vado al boss, prendo un po' come secondario, devo prendere anche la fune di fuga, forse la vedi già te, no. Te allora fune di fuga, sì c'è, perfetto. Ok, non ho più bisogno di andare alle rovine. Moonstone. Vai, Miss Gnomo diventa... Cosa sta diventando? Porco di quel porco, è uno spinac. Vabbè, almeno si vuole subito Miss Gnomo. No, ha cambiato il gender, quindi è buono. Ebba, volante, ok. Oddio, non hai neanche mandaccio, eh. Cacchio. Ha! Cioè, potrei farmare i livelli con... Hai lasciato il like al video? Ti sei iscritto al canale? No, fallo, è gratis, non ti costa nulla. Buon proseguimento. Va bene. Beh. Allora. Gavelin e Snoopull. Ma perché sono così bassi? Forza. Poi ha solo questi due, quindi va bene. Icewind. Cioè, la prima cosa è sempre Icewind per... Madonna. Per rallentarle. Che non si sa mai se sono più veloce. Grande. Porca toglie se sale questo. Vai, vai, vai. Silver. Omanite e Mac. Urca. Pioggia. Questo è buono. In un certo senso è buono. Gino vai. E quindi serve un attimo per rallentarle. Seed Flare. Bella. Bella che me l'ha shotta. Ok, la velocità è addoppiata, che è buono. velocità di Blastoise. Per me è stato un turno inutile. Però c'è Pingu. Vai, Pingu. Allora. Lui è a più... Fisico. Quindi va bene. Più fisico e Edbat. Allora Beam su quell'altro. Come fai se è più veloce questo? Scusami. Quanto è veloce? Ho ho. Scusami. Era 68. Ah, lui è 64. Mi stegniamo. Vai. Un altro Mac. Porca di quella porca. Chatter? Scrive WAP? Aurora Beam? Luster Burge. Che è Creon? Vabbè. Qua devo mettere dentro lui. Anche se rischio di farmelo shotare con Seed Flare. Un altro Skill Swap? Ok. Ok. Stanno come combo. Ma mi interessa che vada giù lui. L'evoluzione. Vediamo come sale. Ok. Stanno... Tutto sommato nella sua maniera. Sandstorm. Va bene. Ci sono tante domande di qua. Ma... Un po' vino è troppo dentro. Tanto faccio la stab, quindi via. 65 più stab. Che è quasi un accento. Ah. Bene. Oh cazzo. Vediamo cosa si evolve. Interessante. Interessante. Lunaton. Forse è la prima volta che ne catturò uno. Tutti i giochi che ho fatto. Allora vediamo. Lunaton non è contenta. Ok. Porca troia troppa vita. E' speciale. Cioè piuttosto speciale. Quindi canciotto potrebbero anche dar via. Con lui... 104 dai. Allora. Ma tu sai quello che mi caria? Sei top OP. Per quello che... Che a te bastano solo due statistiche. E' uno che fa volume in continuazione. Ok. 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 Finita. Uh. Che team. Ok. Sinistra. Veniamo. Perché mi si è rallentato così parecchio. Come è shottato. dopo per me però erba no poi a punch allora strategia abilizzate rischio il 30 per cento che avevo colpito per prima boom ai caramba fiore scusami un attimo allora deboli a e deboli a ghiaccio chiedo così sono cosa evitare ai spot e si si ma con pingue e citaggio estremo 3 o che livello abbastanza schifo a pen di tutti due che questo non sapevo allora hit me tutti due hit me entrambi via iphone e bianca misto di veloce perfetto il trentesimo livello sale sale stortissimo vai vediamo cosa si avvolge il pesce oh cristo ok il nostro tema è full adesso aerodifense vediamo cosa ha di statistiche oddio non è neanche malaccio dobbiamo cambiare un po' le mosse non è neanche così malaccio allora la vera domanda è uuuh still dark allora sa che mi esce una bella combo con surfer lui c2 che devo stare attento con surfer non la torna è firme che la insegna un posto di bubble beam forse ma fatto da i tog i kids bello dai in pancio fac come non ha subito danni e ritornati dieti con l'interesse speggia rende e acqua o cosa ecco mi aspettavo una cosa del genere prima allora deboli e ghiaccio allora c'è già lui a 90 oppure tu c'hai qualcosa sì ma madonna quanta quanto lag mi ha chiesto adesso ice beam con head pat madonna l'unica volta che mi serve davvero e congelamento superfica ok bello cioè se mi aumentasse anche velocità non serve male di per se ci sono due anni nato e dopo c'è capo palestra quindi gambler corso di nuovo e questo ne ha solo una ne ha avuto uno in più vediamo non mi ricordo più se hanno debole a ghiaccio quindi vado con pettino è un nome azzecattissimo però va bene earth power ok ci sta questo o è un 4 0 5 questo mi serve che siano più lenti che è buono e mando buon vino perché è quello che mi deve anche salire quello più basso tra i due allora deboli a ghiaccio se c'è volante erba terra ho sbagliato sbagliato ho anche messato quindi perché così poco è una kill è andata allora mi preoccupa questo fatto gamble è troppo forte perché ha subito danni questo coso è terra ok è aprire una conferma perché ha subito danni questo coso danni faccio ok li subisce per scendere bagbite magari mi prendo anche la bacca no ok allora pensando ma se uno sapesse già tutte le tasselle diciamo quelle nascoste potrebbe schipparne una no non potrebbe allora allora bim bim ormai questo lo uso per settare sì ma neanche così scusami spike gigadrine perché si focalizzano su di lui wow allora cioè da quello che ho visto sono deboli a ghiaccio quindi pesuro perché un'altra cosa importante è che io ho fatto sì che gli allenatori della stessa palestra abbiano lo stesso type diciamo così quindi quindi no la per 4 no la per 4 no la per 4 no allora sarà un bel quesito adesso ne ha quattro cazzo 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 sono già indietro con i livelli allora potrei fai questo e la confusione per meta metà se non lo shot sono sono fregato se non ha sciotto ok devo leghiaccio ecco lo sapevo allora c'ho un volante tank vai o fai youtube per una questione di forbizia ok io penso che prima abbia attaccato genga adesso che lo sostituisco non può attaccarlo perfetto dopodichè voglio switchare in modo tale da mettere dentro genga la porca troia allora vediamo se riesco a affegarlo non dimmi che sono volanti madonna se lb da quello che vedo è appunto che è tutta question di speed porca vacca allora devo usci che che mi aveva attaccato mi aveva attaccato buon vino ma perché mi va così scatti dai tanto problema sì come pensavo era buon vino ovviamente hai giù basta ma basta questo è buono anche c'è una volta efficace allora il beta il beta spark e farà forse quell'altro no hai davvero rotto le scatole eh con questo tette dense occo che ma che io gli unici danni che ho fatto primi è stato solo di e fa un'altra volta forse presumo attaccati da solo vai sì ma scusa ma inserire via solo una mossa che è una battaglia o finalmente finalmente va giù questo coca ovviamente vai pepino paralizzano terra ma siamo sei allora se è terra flim tower ok questo potrebbe essere non buono grandissimo ok questo potrebbe essere non buono è che è che attaccheranno da solo oi ma che cacchio di vai pingu pingu piste win si però un po' più veloce un po' più veloce cioè ci sto mettendo troppo per una battaglia igiene sì perfetto è un altro errore giù ok buono 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 diciamo che la difficoltà più grossa è stata scampare visto più cinque allora il problema è me la rischio me la rischio porca troia è ancora vivo si chiama mia quello di san genna ok buono orco giuda quante difficoltà c'è celibri che mi faceva solo tette e tette madonna non va bene così io ho ridotto la velocità della metà forse c'è prima ha fatto solo il dig ha preso solo danni da forza e da dall'oggetto guarda ti becchio una 121 di attacco speciale città città con i tuoi tutti tutto quanta fatica o corcare quanta fatica per prendere una medaglia è bene beh eh pronto? ti becchio dai la bocca ma che cacca